buongiorno allora come leggete dal titolo è un blog un po diverso io spero che questo video non tirano via la monetizzazione non so se potrei mettere questi questo genere di video sul fatto di del covid perché molte persone mi sembra che gli hanno tolto la monetizzazione non l'hanno fatta eccetera cioè non lo so comunque sì io sono tra virgolette in ritardo in senso che non ho fatto ancora il vaccino e lo farò oggi mercoledì primo settembre allora sinceramente non volevo farlo e non lo voglio fare però dato che sono obbligata per il semplice fatto che se non faccio il vaccino non posso lavorare per cui dato che io lavoro con diciamo le persone per modo di dire vado a casa delle persone ovviamente mi hanno detto che devo farlo perché sennò non mi fanno andare a lavorare comunque a prescindere da questo che non voglio fare tutte polemiche robe varie perché io la penso diversamente e appunto dato che questa esperienza mi resta come ricordo voglio registrare e tenerlo come ricordo per modo di dire per cui sì ho prenotato per fare vaccino queste sono le carte devo compilare questa scheda e ho anche il qr con il codice che ovviamente non lo posso far vedere ma vi posso far vedere che ho prenotato il vaccino sono tre fogli perché o glielo prenotato anche a mio ragazzo e lui non voleva farlo anche lui per cui ho dovuto per forza prendere il codice fiscale e farglielo io perché sennò non lo faceva e io poi andavo da sola per cui glielo ho costretto anche lui a farlo ma non solo per quello anche perché adesso da da settembre metteranno praticamente il green pass ovunque e dato che io sono una che viaggia che va in giro e non sta mai a casa ma fa tante altre cose diciamo che senza green pass è molto difficile per cui alla fine per forza devo farlo sto vaccino per cui adesso compilo il foglio io l'appuntamento ce l'ho alle 17 35 io spero che almeno un pezzettino posso registrare così meno appunto mi resta per ricordo per ricordare questa esperienza sperando incrociamo le dita che non ho niente che sto bene perché appunto se starò male spero di no ma diciamo che sono agitata molto preoccupata anche per il semplice fatto che se se poi dopo inizio star male dopo sarà difficile fare video sarà difficile non lavorare per cui io mi preoccupo molto si potrebbero potrebbe essere che non succede niente e che molte persone sono state bene ma molte persone sono state male per cui non lo so che cosa succederà speriamo bene e comunque ovviamente questo blog ve lo vedete la prossima settimana e non questa per cui calcolate che tra una settimana vedete questo blog ma sapete su instagram se io sono stata bene sono stata male in poche parole tutto qua adesso devo compilare questo foglio che praticamente devi rispondere al sì o no ad esempio nell'ultimo mese è stato in contatto con una persona contagiata da covid effetto da covid queste sono praticamente le domande però vabbè non è che sto lì adesso a leggervi le domande anche perché non so se posso in poche parole posso leggervelo perché non so youtube se queste cose le può le possiamo mettere su youtube oppure no comunque vabbè niente compilo il foglio ci vediamo dopo e incrociamo le dita e vi farò sapere forse a fine video se va tutto bene oppure no e poi ovviamente spero di riuscire a riprendere qualcosina e spero che mi fanno riprendere qualcosina come hanno fatto le altre persone su youtube comunque detto questo l'agitazione a mille e non sono mai stata così tanto agitata anche quando ho prenotato il vaccino sinceramente mi stava tremando la mano che non riuscivo neanche mamma mia aveva un'agitazione e ho ancora un'agitazione a mille perché io ho paura degli aghi infatti quando faccio punture o anche anche solo per farmi il buco all'orecchio da bambina stavo ero così non riuscivo più a muovermi e per cui ho paura e è così quando una paura e può succedere di tutto ovviamente incrociamo le dita e mandatemi positività e anche se questo video voi lo vedete tra una settimana però lo scoprite a fine video e e di sicuro anche su instagram ci vediamo dopo ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mi fa male il braccio. Fa finire che ho la sensazione che Giovanni non sarò tanto attiva. Non si vede niente perché è buio. Sono le... che ore sono? Eh? Sì. Siamo a Como, sul lago. Sì, è le nove e mezzo. Abbiamo mangiato la pizza, solo che mi sono dimenticata di registrare il video. E gli aggiornamenti del braccio, del vaccino, è che mi fa male il braccio. Mi inizia a far male tanto il braccio e credo che un po' gonfio lo è. Però vi aggiornerò... Vi aggiornerò domani. Vi aggiornerò domani... domani che è giovedì praticamente. Perché adesso facciamo una passeggiata e dato che mi sono dimenticata di registrare le clip della pizza. Vabbè, a parte che l'ho fatta su Instagram. L'ho fatta su Instagram. Praticamente chi mi segue da Instagram vede le storie e ha visto le storie che ho fatto. Per cui adesso facciamo una passeggiata. Siamo nella piazzetta di Villa Olmo. Lì c'è la torre, ma non andiamo fino là perché sono più di venti minuti a piedi per fare tutto il lago. E non c'è voglia di camminare così tanto. Per cui... Comunque vi aggiornerò. Per il momento vi dico solo che mi fa male il braccio e che un po' ce lo gonfio. Per cui aspetteremo domani, che è giovedì, e vedremo la situazione. Se n'è entrata dentro... Qualcosa... Non c'è da mangiare. Che cazzo... Non c'è niente da mangiare. Non c'è niente da mangiare. Lo aspettano da mangiare. Hai visto che mi soffia? Ma è a buio. Non si vede. Ciao. Ma è a buio. Non si vede. Ciao. Ma che verso fai? Eh, non ho niente da mangiare la prossima volta, però io provo a costargli il pane. Buongiorno, questo è il secondo giorno, ovviamente è 2 settembre di giovedì, e dato che ieri, diciamo, sono stata un po' tranquilla, siamo andati a mangiare la pizza, abbiamo fatto un bel giro fino alle dieci e mezza a Como, abbiamo fatto una bella passeggiata. Ovviamente chi mi segue su Instagram le storie le ha già viste, per cui è inutile che ripeto sempre le stesse cose che faccio, diciamo, su Instagram e qua. Per cui, se non mi seguite su Instagram, seguitemi che lì vedete praticamente tutto. Scusate per gli umori, ma stanno lavorando fuori e quando registro io c'è di tutto e di più. Allora, la situazione è questa. Ieri stavo bene, non ho avuto praticamente niente, ero tranquilla per modo di dire. Abbiamo aspettato 25 minuti di attesa perché il mio ragazzo è stato male, praticamente iniziava a sudare dalla testa ai piedi, ha iniziato a sudare tanto, gli girava la testa, non riusciva a stare in piedi e ha iniziato a star male in 8 minuti, in poche parole. E alla fine abbiamo dovuto chiamare la dottoressa per farlo portare in una stanza dove l'hanno praticamente sdraiato e l'hanno tenuto lì per altri 15 minuti, in poche parole. Per cui abbiamo aspettato un bel po', siamo stati praticamente lì tra l'attesa del vaccino, eccetera, almeno un'ora e mezza, più o meno. E niente, lui è stato male, io sono stata abbastanza bene. Allora, nel mio, diciamo che quando mi ha fatto la puntura ho sentito l'ago, io non ho guardato perché sono una che ha paura degli aghi e mi agitavo tanto, infatti ero agitata anche quando ovviamente me l'ha fatto. E in poche parole ho sentito veramente l'ago che mi ha fatto male. All'inizio è andato bene, poi infatti stavo bene, normale. Avevo un po' di nausea e iniziavo a girarmi un po' la testa, ma leggermente, per cui non tanto. Dopo la sera, praticamente, quando siamo andati al ristorante, che avevamo scelto di andare al ristorante, sempre fuori, per cui con vista lago, eccetera, perché dentro, dato che ancora non abbiamo il Green Pass, non potevamo stare dentro. All'inizio, quando ovviamente dopo ci ho portato la pizza, iniziavo a farmi male il braccio. Ha iniziato a farmi male, sentivo veramente dolore e iniziava piano piano a peggiorare perché mi iniziava a gonfiare il braccio. Sì, diciamo che è normale perché molte persone hanno avuto, diciamo, la mia stessa cosa, per cui è normale. Adesso vi dico che stanotte non ho dormito, ho fatto fatica, perché io dormo praticamente con la sinistra appoggiata al materasso e io sono più comoda così. E allora ho fatto molta fatica a dormire, tutta la notte ho fatto fatica. Mi giravo, facevo destra e sinistra, ma non ce la facevano, perché la mia posizione era quella. E sono stata un po' così così, mi faceva male tanto il braccio. Poi ho iniziato piano piano a gonfiarsi, infatti adesso ce lo gonfio, ho il ghiaccio. E niente, ho messo la crema, quella nera, infatti ho il cerotto praticamente nero. E adesso mi fa male, solo che oggi pomeriggio devo andare praticamente a lavorare, un altro lavoro. E non so se riuscirò a lavorare perché fino a un tot riesco a alzare il braccio. Da dove c'è il cerotto a praticamente metà faccio fatica perché mi fa male, è un casino. Sì, ovviamente è normale, però io sono una che non sopporta i dolori, per cui è veramente pesante e mi fa male. Allora, ero agitatissima, molto agitata, però dai è andata bene, pensavo peggio perché sinceramente come sono fatta io pensavo peggio. Questa è un po' un'esperienza diversa, che non l'ho mai fatta in tutta la mia vita. E niente, infatti ieri sera mi sono dimenticata pure di registrare una clip sul fatto della pizza che abbiamo mangiato. Però tanto l'avete vista su Instagram, per cui amen. Questo vlog lo vedete prossima settimana, per cui io parlo adesso dal primo all'1 settembre. Voi credo che lo vedete dopo, credo, non so, il 7, mi sembra dopo il 7, vedete questo vlog. Perché dopo non riesco a metterlo, per cui lo vedete un po' più in ritardo questo vlog. Però vi aggiornerò su... Non ho messo ancora niente su Instagram sul fatto del vaccino. Però lo metterò, ho fatto due foto per ricordo. Allora, non ho ripreso quando siamo arrivati dentro, perché non si poteva riprendere. Dovevi avere il consenso delle persone. E dato che io non ho il coraggio di dire, scusi, posso riprendere? Sinceramente. Poi vabbè, per quello che è successo, che poi il mio ragazzo è stato male, diciamo che non ero in grado di riprendere e di registrare. Ho registrato qualche clip, poco poco, quando eravamo in attesa e basta, ma non sono riuscita poi a fare altro, perché era una situazione un po' delicata, per cui mi dispiace che non sono riuscita a riprendere. Almeno quando faceva, diciamo, la puntura, volevo riprendere, solo che ero girata in un modo sbagliato. Poi c'erano due persone dentro la stanza che uno faceva la... Cioè io dovevo firmare i fogli che mi ha dato, che erano questi, e poi ti dava il numero e ti faceva le domande in poche parole. se ha avuto il covid, eccetera. E niente, per cui avevo deciso di non registrare, di non farlo per un po' di praiosi anche sulle altre persone, perché c'erano veramente tante persone, specialmente giovani, che si sono vaccinate, e in più c'era anche un bambino che si è anche sentito male, come il mio ragazzo. Questo è quello che è successo. Adesso aspetto che mi passi il braccio. Spero entro stasera, così almeno posso, diciamo, fare tutto, perché poi venerdì devo lavorare, e poi lo scoprirete nel blog che avete visto, praticamente il 4, che era sabato. E niente, questa è la situazione. Fatemi sapere se anche voi avete fatto il vaccino. Io ho fatto il Pfizer. La seconda dose ce l'ho mercoledì 22 settembre di mattina, per cui credo che vloggerò anche quel giorno. Così o meno vi farò sapere anche la seconda dose e come andrà. Sono curiosa. Fatemi sapere anche voi che vaccino avete fatto, quale avete fatto, e ovviamente come vi siete sentiti. Se siete stati bene, se siete stati male, se vi è fatto male il braccio come a me, oppure se vi siete sentite male come ha fatto il mio ragazzo, che si è sentito male. Fatemelo sapere perché sono veramente curiosa. E fatemi sapere se avete fatto il vaccino. Io, ripeto, tanto prima o poi dovremo fare tutti il vaccino, per cui io vi consiglio di farlo. Perché alla fine, cioè, o un grip pass o non grip pass, fatelo. Perché come va, va. Non c'è via di scampo. Se l'ho fatto io, lo potete fare anche voi. Per cui, io vi consiglio di farlo. All'inizio sì, avete paura. Perché io ne avevo tanta di paura e ne sono fatta così. Anche adesso, beh, sono un po' così così, un po' agitata. Però, è normale. Per cui vi consiglio di farlo, perché tanto prima o poi lo fate tutti. E, così almeno saremo più tranquilli. Spero. E niente, io concludo qua il vlog, perché non so quanto è durato. Allora, non mi sono truccata come si deve, come ieri, perché giustamente è difficile truccarsi. È difficile fare un bel po' di cose adesso, per cui sarà un po' complicato. Però, credo che entro stasera mi passerà. E niente. Per cui, adesso lascio il ghiaccio. Aspetterò fino a stasera. E spero che, spero che domani non avrò più niente, così lavorerò tranquilla. Detto questo, io vi saluto. Noi ci vediamo in un prossimo video, che sinceramente non so se sarà un vlog o sarà un altro video che avrò registrato. Gli aggiornamenti ve lo farò sapere tramite Instagram o anche su YouTube, dipende se faccio video e perché va tutto bene. se non riesco a registrare o non riesco a montare è perché va così così. Però, credo che andrà bene. Non ho avuto niente fino a ieri tranne, vabbè, il braccio. Però, l'importante è stare bene di salute. Poi, il braccio che fa male, eccetera, chi se ne frega. Cioè, passa. comunque, mi raccomando, fate il vaccino perché tanto alla fine dovete per forza farlo prima o poi. Per cui, e poi mi sembra che sarà a pagamento, se non sbaglio. Andando più in là, più i mesi passano, più sarà a pagamento il vaccino. Per cui vi consiglio di farlo adesso che è meglio. Infatti, a me mi ha dato tutte queste cose che, di avvertenze, robe varie e poi mi ha praticamente ci ho dato un altro foglio con scritto qual è il richiamo il prossimo, la prossima settimana, no, tra tre settimane e cosa ci faranno che faranno sempre il Pfizer in poche parole. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, leggo tutti i vostri commenti qui sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ah, i commenti negativi i commenti che non mi piacciono e sono bla 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 varranno cancellati e non starò lì a commentare a dire tutte le altre cose che scriveranno le persone. Per cui vi avviso già che i commenti saranno eliminati. Al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti